bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che si è appena conclusa questa come sempre la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti finanza e mercati finanziari questa come sempre buonanotte mercati ma vi racconto tutto quello che è successo subito dopo la sigla ciao a tutti bentornati su io risparmio come sempre sono pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore di quella porta lì quella accanto come ogni lunedì buonanotte mercati vi dà un'analisi molto sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa come sempre parliamo di mercati economia finanza e notizie importanti che possono o possano aver impattato gli investimenti e la nostra vita sociale come sempre ne parliamo e ne andiamo a parlare in maniera distaccata dando solo numeri e non sensazioni fra le notizie più importanti della settimana la prima che mi viene da dire la berkshire hathaway di warren buffett ha dichiarato venerdì di aver nominato wally witts il fondatore di witts investment management per entrare a far parte del proprio consiglio di amministrazione quello appunto della berkshire hathaway in seguito alle dimissioni di tom morphy l'ex capo di capital cities abc incorporated la nomina è stata rilevata nel filing annuale della delega del berkshire prima dell'assemblea annuale della società che ha sede come tutti sanno penso che sia la cosa che tutti sanno nell'ambito degli investimenti a omaha in nebraska il 30 aprile sarà votata dagli azionisti morphy è un amico di lunga data di buffett e ha deciso il mese scorso di andare a dimettersi dal consiglio di amministrazione appunto della berkshire hathaway in seguito a una infezione di covid 19 ciò ha causato il mancato rispetto della berkshire nelle regole della borsa di new york che richiedono che la maggioranza di quelli che sono i membri del consiglio siano indipendenti witts alla giovane età di 72 anni e ha fondato la sua omonima azienda con sede a omaha nel 1983 al 31 dicembre aveva circa 4.1 miliardi di dollari di asset in gestione wallace witts porta nel consiglio la sua notevole esperienza finanziaria come investitore in società per azioni e come direttore di una società per azioni ha affermato in un proprio comunicato la berkshire hathaway il consiglio di berkshire avrebbe 15 membri in totale dopo la nomina di witts di cui 8 sono considerati come indipendenti la seconda notizia riguarda i uber technologies che ha dichiarato venerdì che i clienti statunitensi esclusi quelli di new york city dovranno pagare da ora in poi un supplemento carburante che partirà dal 16 marzo poiché l'azienda dei servizi di trasporto cerca di affrontare le preoccupazioni degli autisti ma anche i grossi esborsi a cui gli autisti vanno incontro e anche di corrieri che sono colpiti appunto dall'aumento dei prezzi della benzina i clienti dovranno pagare un supplemento di fra i 45 e 55 cents ogni viaggio e 35 o 45 cents invece sugli ordini che vengono effettuati da uber eats a secondo della loro posizione geografica il denaro che andrà debitato andrà però direttamente ai lavoratori ha detto uber per cui non andate nelle proprie casse per il momento le prospettive sono di far durare questo supplemento per 60 giorni dopodiché apporterà adeguamente in base ai feedback di lavoratori e anche dei clienti la mossa arriva quando molti conducenti di uber hanno protestato sui social media per gli alti costi che hanno intaccato a seguito dell'aumento del carburante i loro guadagni anche se la società ha aumentato le sue prospettive di redditività con alcuni che si sono chiesti se valesse ancora la pena mettersi al volante le sanzioni occidentali in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno paralizzato il commercio mondiale praticamente del petrolio e potrebbero aumentare ulteriormente i prezzi di benzina o di gasolio terza notizia sempre legata alla crisi ucraina russa è che venerdì il rubro è salito rispetto al dollaro in un leggero scambio online e offshore ma ha concluso comunque una terza settimana di fila di pesantissime perdite con la banca centrale che ora limita ulteriormente l'accesso alla valuta estera il rubro ha perso un terzo del suo valore negli scambi di mosca da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il mese scorso mentre l'economia locale cede sotto la pressione delle sanzioni che sono importantissime che sono state imposte un po' da tutte le nazioni del mondo come rappresaglia per l'invasione il rubro ha chiuso la giornata di venerdì in rialzo del 3.7 per cento rispetto al dollaro a 114,25 alla borsa di mosca mentre per la settimana è sceso dell'8.1 per cento avendo perso oltre il 32 per cento del suo valore nelle ultime tre settimane le offerte di offshore erano indicate fra 125 e mezzo e 140 su Refinitiv e a 135 per dollaro su IBS la voluta comunque scesa fino al 39 per cento quest'anno a mosca mentre le offerte offshore hanno registrato cali ancora maggiori di gran lunga la voluta con le peggiori performance al mondo quest'anno poi gli ampi spread bidask hanno mostrato quanto sia diventato molto illiquido fare trading su questo asset però come sempre andiamo a parlare di numeri nella seconda parte di buonanotte mercati che continuano comunque a essere impattati dalla triste situazione della invasione da parte della federazione russa nei confronti della ucraina gli indici americani che continuano nel loro territorio negativo la loro permanenza nel territorio negativo questa settimana nessun indice americano tiene il verde e la situazione è anche stata tamponata fortunatamente da alcuni giorni che hanno portato dei rialzi il peggiore anche questa settimana che si è appena concluso è stato il nasdaq 100 che lascia un 3,53 per cento sul terreno seguito a raffica dall'indice madre lo standard p 500 con un meno 2,88 per cento e il dow jones che perde quasi un 2 per cento tondo tondo mentre l'indice delle piccole e medie imprese il russell 2000 è quello che è messo diciamo meno peggio perdendo solo un meno 0,94 per cento come prosegue al di fuori della degli stati uniti america bene al di fuori degli indici americani quelli peggiori sono sicuramente langseng che ha perso un meno 6,17 per cento e il cse all share dello sri lanka che lascia sul terreno un meno 5 per cento e poi a volta gli altri indici asiatici importanti legati soprattutto al mercato cinese che sono quello di shanghai con un meno 4 per cento le szse components con un meno 4,40 per cento e il china 50 con un quasi meno 4 per cento ci sono comunque delle borse che hanno dato dei rendimenti positivi e il migliore sicuramente il budapest stock exchange con un più 6,61 per cento e il wig 20 polacco con un quasi 6 per cento di guadagno mentre l'ibx 35 spagnolo segna anche esso un segno positivo con un più 5,46 per cento per quanto riguarda il nostro amato fuzzimi questo chiude con un dignitosissimo più 2,57 per cento andiamo a vedere quali sono i settori migliori e peggiori del panorama statunitense per questa settimana che si è andata a concludere che ha comunque offerto spunti di guadagno in alcuni settori che hanno addirittura segnato rendimenti a doppia cifra ma anche le perdite sono state molto molto amare e in un caso la doppia cifra è arrivata quasi un meno 30 per cento sicuramente il migliore settore in assoluto è stato quello dei servizi energetici che ha portato un più 10,2 per cento poi ci sono le construction le costruzioni con un più 8 per cento e il settore migliore dello shipping anche questo porta a casa un più 6,3 per cento tra i settori peggiori le regate al rosso più nefasto sono quello del tabacco in primis che chiude a un meno 27 per cento che è batosta poi i prodotti per la casa il beverage entambi con un meno 7 per cento e poi il medical equipment e anche i personal products che chiudono quasi a un meno 7 per cento sfiorandolo di poco poco è un 6.94 per cento infine come sempre parliamo del mercato cripto del mercato delle criptovalute che è stato se si può dire così praticamente piatto per lo meno fino alla data di oggi quando sto registrando questo video che è sabato 12 marzo 2022 con molte coin ad alta capitalizzazione che non sono se si così si può dire né carne né pesce le uniche che spiccano un balzo in positivo sono ripple con un più 8 per cento e terra che continua la sua onda positiva con questa settimana ovviamente fino a sabato fino a oggi con un più 4,3 per cento segnali negativi invece per cardano solane d'avalanche in una forchetta che fra che va fra il meno 6,5 per cento e meno 8,5 per cento di perdita ovviamente ad oggi se invece guardiamo l'indice nel suo complesso il total crypto index inclusivo del bitcoin questo ha segnato un segno positivo sempre alla giornata di oggi sabato 12 marzo con un quasi diciamo così parità se si considera la volatilità del mercato cripto e infatti si ferma a uno 0,54 per cento di segno positivo bene bene eccoci arrivati anche alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati per la settimana che si è appena conclusa settimana che ci ha ancora portato più sofferenze per la guerra ai poveri ucraini e che diventa sempre più violenta e purtroppo sempre più triste spero sinceramente che finisca presto come sempre spero che questo contenuto sia sempre stato apprezzato e se così fosse e di tuo gradimento per favore fallo capire a me ma anche alla gaurittima di youtube lasciando un bel pollice in su e un commento qui sotto per discutere le notizie che ti ho appena elencato inoltre se sei nuovo sul canale ovviamente ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa perderti nessuna pubblicazione successiva buonanotte mercati si chiude qui ma torna lunedì prossimo come ogni lunedì e invece noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 ciao